Benvenuto a questo video di consigli con lo staff di Alpha Jimmy. Segui tutti i consigli per il raggiungimento dei risultati, in particolare il numero 8 e 9 possono aiutarti al tuo obiettivo. Se ti piace questo video, iscriviti e lascia un commento per avviare un confronto. Let's go! Ci incontriamo in un party, lei scherza con tutti, ma non con me, perché ci siamo lasciati. Che posso fare? Falle vedere che ti diverti anche senza di lei, e balla più non posso. Su Facebook ho visto una foto, in cui la mia ex ragazza sorride a un ragazzo, mentre bevono birra. Specifico che erano altre persone. Non so se chiederle spiegazioni, perché ci siamo lasciati. Che posso fare? Prima di tutto non guardare i suoi social, potrebbe usarli strategicamente per ingelosirti. Comunque puoi scriverle un messaggio dal tono simpatico per raccogliere informazioni, del tipo Ehi là! Sembrava che ti stessi veramente divertendo a quell'aperitivo. Era un gruppone in amicizia. Lo fate spesso? Adesso ti saluto che ho un impegno ciao! Lei non vuole baciarmi, perché ci siamo lasciati. Che posso fare? Vuole sapere che la rispetti. Dille i quattro motivi per cui la stimi. Attento! Tra i quattro motivi non ci deve essere che è bellissima. Penserebbe che non la consideri una donna di valore. Lei non vede in me un uomo di valore. Perché ci siamo lasciati? Che posso fare? Fin dalla preistoria la donna cerca nel suo uomo, colui che possa sfamare lei e i suoi piccoli. Fatti vedere dalla tua ex ragazza, con una busta di cacciagione da mangiare. Se è vegetariana una busta di patate. Incontro la mia ex ragazza fuori dal supermercato, io la saluto sorridendo e lei fa una faccia infastidita, come se provasse noia. Perché ci siamo lasciati? Che posso fare? Guardala negli occhi e capisci la sua energia. Poi dille, sei libera di andare, io ti capisco. Se lei se ne va per davvero non contattarla per 45-60 giorni, così comprenderà che sei un uomo di valore. L'altra sera ci siamo visti e io stavo ribaltato. Lei con freddezza mi ha detto, ah oh ancora. Perché ci siamo lasciati? Che posso fare? Se sei un uomo di valore dille, posso cambiare il flusso del vento, posso trasformare un fallimento in un successo, posso ridipingere dieci palazzi. Ma non smetterò di ribaltarmi solo per piacere a te, è tempo che tu capisca il mio valore. Da un po' di tempo ho l'impressione di non piacere più alla mia ex ragazza. Perché ci siamo lasciati? Che posso fare? Se vi incontrate fatti vedere in buona salute, non tossire o starnutire, lo apprezzerà tantissimo. Concentrati poi su alcuni dettagli segreti, i suoi piedi sono girati verso di te. Si tocca i capelli con grande frequenza. Il suo tono di voce cambia. Sudà molto. Se noti questi dettagli segreti è probabile che lei sia ancora attratta da te, ma te lo vuole nascondere. Sento un forte desiderio, ma lei non vuole fare l'amore con me. Perché ci siamo lasciati? Che posso fare? Un uomo di qualità sa dominare il desiderio. Non affrontare la questione direttamente, ma parla di cose che la facciano pensare al benessere, come la cheratina o il carbone vegetale. Poi, come se nulla fosse, ricordale di quando sei stato particolarmente focoso a letto. Magari c'è casca.